Vende tabacchi senza autorizzazione. Denunciato, il responsabile dell'attività è sequestrata le sigarette e i prodotti da fumo che aveva nel negozio. Il patentino era scaduto a fine 2022 e non era stato rinnovato. Sono stati i finanzieri del comando provinciale di Lucca ad eseguire il sequestro in un esercizio commerciale della Valle del Cerchi. Le fiamme gialle hanno potuto constatare l'effettiva vendita di tabacchi in assenza di patentino. Hanno così denunciato il responsabile dell'attività e sequestrato quanto rinvenuto, in particolare 1.703 confezioni di sigarette di varie marche e 4.419 prodotti da fumo per un ammontare complessivo di oltre 34 chili. Il negoziante rischia ora un'ammenda e una condanna fino ad un anno. 4. Il negoziante rischi 3. Di Giacomo Per il nostro welche, a qui, a qui, a qui, a qui, a qui, a chi.